Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, è di pochissime ore fa l'annuncio da parte dei Metallica completamente a sorpresa del rilascio del nuovo album che si chiamerà 72 Seasons e uscirà ad aprile, precisamente, sto guardando il loro sito, il 14 aprile 2023. Per cui direi di buttarci immediatamente sul loro sito e vedere, di scoprire tutto quello che è stato già comunicato, quindi compresa copertina, tracklist e varie versioni disponibili. Allora, questo è il sito dei Metallica dove praticamente possiamo vedere il titolo del nuovo singolo di cui è stato rilasciato anche un videoclip che si chiama Lux Eterna. Ne parleremo dopo perché è veramente fighissima. Sappiamo che, quindi appunto, ecco, il nuovo singolo si chiama Lux Eterna, questo è il link per poterlo vedere su YouTube. Sappiamo che si chiama 72 Seasons, il nuovo album, e su More Info andiamo a vedere. Allora, questa è la copertina che, diciamo, un pochino discutibile, ma, diciamo, come tutte le copertine dei Metallica, sicuramente non sono mai state belle. Forse si salva solo Master of Puppets, ma anche lì, in generale, niente di particolare. E andiamo a vedere quella che è la tracklist di questo album, che appunto è composta da questi brani che si chiamano 72 Seasons, Shadow Follow, Screaming Suicide, Sleep Walk My Life Away, You Must Burn, Lux Eterna, Crown of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had a Sun, Too Far Gone, Room of Mirrors, e Innamorata. Allora, sto cercando di vedere se ci sono, ecco, qui ci sono le versioni disponibili, quindi abbiamo tre versioni in vinile, vinile nero, giallo, macchiato, grigio, e il CD. Abbiamo, ovviamente, la versione digitale e una prima maglietta con scritto, appunto, 72. Sto cercando di vedere se ci sono informazioni sulla durata, ma mi sembra di no. Ah, sì, 77 minuti, quindi sicuramente si tratta di un album, appunto, lungo, anche se il singolo che è appena stato rilasciato, appunto, Lux Eterna, è molto corto, dura appena tre minuti e mezzo. Ma andiamo a vedere, ad esempio, sul sito di Amp Online, perché secondo me ci sono sicuramente già delle versioni in esclusiva. Infatti, vediamo subito che c'è già la versione vinile rosso, che secondo me è molto figata, è questa che andrà sicuramente acquistata, che, appunto, è un'esclusiva di Amp Online. Quindi, questa qua sicuramente la prenderò, quasi sicuramente, magari insieme a quella grigia o quella gialla. Probabilmente questa qui, gialla, è molto carina. Questo Yellow Splatter. Ah, ecco, c'è già scritto che praticamente è sold out e non sarà reintrodotto. Ammazza, quindi è andato sold out praticamente in tre minuti. Vabbè, giustamente si tratta di Metallica, quindi era normale aspettarselo. Però, comunque, ci sono tante altre versioni, per cui, se vogliamo delle versioni particolari, bisogna preordinarle immediatamente. Per quanto riguarda il nuovo singolo, Lux Eterna è sicuramente un brano, secondo me, fichissimo, che però non ha niente a che vedere con il Trash Metal. Perché io, perlomeno, il mio parere personale, è che ci sento parecchia New Wave of British Heavy Metal. Noi sappiamo che i Metallica sono stati influenzati tantissimo dal primo movimento, appunto, della New Obam, che viene chiamata così questo movimento, la New Wave of British Heavy Metal. E, infatti, in questo brano l'andiamo a sentire veramente tutta. Abbiamo anche un James Hetfield, diciamo, abbastanza in forma, che però non usa il suo graffiato solito, ma utilizza una voce piuttosto pulita. Adesso non sappiamo, chiaramente, come sarà il resto del disco. Suppongo e credo che questo brano, questo nuovo singolo, Lux Eterna, sia un episodio isolato, nel senso che, vista la durata di 77 minuti, è sicuro che tutti gli altri brani saranno molto lunghi, come del resto ci avevano già abituato con il precedente Hardwire. Diciamo che, se il disco va tutto, insomma, su questa scia qui, secondo me ci troveremo davanti un discone. Per cui, insomma, a questo punto non ci resta che attendere il 14 aprile 2023 nella speranza che magari venga rilasciato qualche altro singolo, appunto, nei mesi successivi. Detto ciò, cercherò di lasciarvi più link possibili nella descrizione per cercare di preordinare subito i formati particolari, perché, come avete visto, quello splatter yellow è già esaurito, quindi, questo significa che lo troveremo su eBay tipo a 300 euro tra un mese, e purtroppo c'è sempre chi lo comprerà, quindi, diciamo, non possiamo farci nulla. Si sa che il mercato del collezionismo non ha regole, e quindi dobbiamo semplicemente adeguarci. Detto ciò, sono molto emozionato da questo annuncio così a sorpresa, perché non me l'aspettavo, non era trapelato nulla. Di solito tutte queste band molto grandi iniziano ad annunciare piano piano le cose, oppure diranno, il giorno X faremo un annuncio che ti fa capire che ci sarà un nuovo album, o comunque qualcosa di importante, e invece qui non era uscito nulla. Così, all'improvviso, qualche ora fa è uscito l'annuncio, quindi siamo rimasti tutti a bocca aperta, molto contenti, perché chiaramente dall'ultimo disco erano passati ormai abbastanza anni. Sappiamo tutti che i Metallica sono lenti nel produrre i loro album, fondamentalmente perché non gliene frega nulla, visto che di certo non hanno bisogno di soldi, quindi non è che fanno un nuovo album per bisogno di soldi, ma semplicemente per il gusto di farlo. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questo nuovo singolo, e vi dico a me è piaciuto tantissimo, ma chiaramente voglio sapere il vostro parere. Detto ciò, vi chiedo il solito pollice in su, se vi è piaciuto il video, e vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!